E in ventita Frammenti di Morgia, una raccolta di 20 guide ufficiali sul Parco Nazionale della Morgia e tra le 20 guide c'è anche il contributo di due bitontine, Chiara Cannito e Angela Ciocia. L'idea del libro nasce durante il corso che noi abbiamo frequentato per ottenere il titolo di guide ufficiali. E ci scambiavamo racconti di esperienze vissute, di episodi più o meno simpatici con adulti, ragazzi, famiglie. E quindi di là è nata l'idea, ma perché non raccogliamo questi racconti? Provando a restituire la nostra Morgia a chi non la conosce o a chi ne conosce solo alcuni aspetti. E la scelta del titolo nasce, condivisa sempre da tutti e venti, da questa riflessione di Alessandro Lio Grande. Solo il racconto dei margini e dei frammenti permette di aprire uno squarcio e di comprendere qualcosa. Comprendere come si intersecano tra loro cose vecchie e cose nuove. Frammenti di Morgia è stato pubblicato nel 2020 con la casa editrice Secop di Giuseppe Piacente in un periodo particolare anche per la cultura, per la pandemia del coronavirus. Propone ai lettori un ritratto puntuale della Murgia, corredato dalle illustrazioni del professore Rocco Labadessa. Nella seconda parte del libro si completa con delle schede tecniche del territorio che gli autori hanno narrato. Il volume si pregia anche della prefazione del dottor Onofrio Pagone che è riuscito ad emozionarsi leggendo i nostri racconti e ad emozionarci con la sua prefazione. Il mio racconto è sulle pietre e nasce dall'esperienza di accompagnamento di alcuni genitori con i bambini sulla Murgia da un'osservazione di una mamma simpatico che però era paradigmatico dell'idea che si ha sulla Murgia. Cioè la mamma mi chiedeva «Professore, e c'è una chef adesso per la Murgia? Che è un gonere?» Quindi per dire come nell'immaginario collettivo, l'ho detto proprio nel nostro dialetto, volutamente la pietra è solo una distesa di pietre che non hanno evidentemente nell'immaginario collettivo un valore quando invece noi sappiamo tutti che la storia geologica è una storia accanto alla storia anzi è la storia che viene prima della storia scritta dall'uomo e nel mio racconto invece evidenzio quanto invece sia grande la sensibilità dei ragazzi. Io racconto proprio la storia, una storia accaduta al campo dei missili. Io da piccola non sapevo perché si chiamasse così il campo dei missili proprio perché c'era un segreto, cioè erano notizie segretate, insomma sono state notizie segretate fino a 20 anni fa e diciamo solo da poco so che effettivamente abbiamo corso un grosso rischio e cioè quello che potesse scoppiare una testata nucleare in questa zona desolata, dispersa e quindi è un fatto che mi ha toccato particolarmente e che mi ha permesso poi di ricostruire tanti momenti della mia infanzia vissuti magari lì in quel posto in maniera completamente ignara. Quindi lasciare questa testimonianza per me è importante perché non vorrei che altri ragazzi come me parlassero di campo dei missili senza sapere che cosa è accaduto veramente al nostro territorio. Oltre i contributi delle due autrici vitontine vi sono altre testimonianze sulla murgia riportate con un diverso stile letterario dalla prosa al taglio giornalistico. Questo rende fruibile il libro a un pubblico variegato. Grande infatti è stata la risonanza che ha avuto il libro dopo la sua pubblicazione. È stato poi subito adottato con nostra grande soddisfazione dall'istituto comprensivo Carmine Silos nelle persone delle professoresse Rosanna Castellano, Angela Agnello, Annalisa Noviello che io ringrazio perché lo hanno promosso all'interno delle giornate per la lettura. E devo dire che è stato emozionante ascoltare i ragazzi che a loro volta restituivano, cioè leggendo il nostro racconto, restituivano la propria poi narrazione della murgia. Questo è diventato il libro di testo e ci stiamo preparando psicologicamente, quindi c'è anche il pathos dell'attesa, ad andare sulla murgia a marzo, aprile, si spera. Per noi rappresenta la forma scritta di un messaggio d'amore che vogliamo lasciare alle future generazioni. Di tutto questo territorio meraviglioso che abbiamo, che è l'alta murgia e che spesso è stato disfrattato, considerato come un luogo da depredare, invece qua dentro le venti guide raccontano ognuna una propria esperienza, magari vissuta o immaginata, che comunque è un atto d'amore verso il territorio. Grazie.